Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Il mio nome è Rossella e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte, faremo una brevissima preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli Angeli. Iniziamo, invoco la Divina Presenza di Dio Dea Onnipotente Padre e Madre, i miei Angeli Custodi, il mio Sé Superiore, gli Angeli Custodi, il Sé Superiore di tutte le persone che mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura, di giudizio, di rabbia, gelosia, competizione dentro di noi, intorno a noi. Liberaci dall'ego, dalla paura, liberaci da tutto ciò che ci sta impedendo di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele aiutaci a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra. Ti chiedo con amore di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabili all'oscurità dove possa entrare solo luce, amore, pace e guarigione. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al maestro Gesù, grazie coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia, ora per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo la nostra lettura, prenderò tre carte da ogni singolo mazzo, anzi voglio fare una cosa un po' diversa, oggi suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B, gruppo C, quindi ti chiedo di mettere le mani nel cuore, di chiedere al tuo sacro cuore qual è il gruppo di appartenenza più giusto per te, ok? Senti nel tuo cuore qual è la risposta giusta per te, potrebbero essere anche il gruppo A e il gruppo C o tutti e tre i gruppi, quindi senti come viene guidata dal tuo cuore, ok? Quindi iniziamo, allora pazienza per il gruppo B, eccola qui è caduta, ok? Amore alle porte, anche la settimana scorsa è uscita questa carta per alcuni di voi, quindi vuol dire che l'energia dell'amore sta lavorando per alcuni di voi, vediamo un po', gruppo C, cicli, ok? Vediamo ora le carte dell'arcangelo Michele, vediamo gruppo A, ci pensa a Dio eccola qui, gruppo B, scrivi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti gruppo C, questa situazione è già risolta, ok? Vediamo un po', gruppo A è uscita la carne, sono uscite due, visualizzazione e potere spirituale, ok? Potere spirituale, visualizzazione per il gruppo A, vediamo il gruppo B, è saltata fuori al sicuro, ok? Bene, gruppo C è saltata fuori anche questa, rimani saldo, rimani salda, ok? Sono tre gruppi diversi, effettivamente è come fare tre letture diverse, questo è bello perché almeno ascoltate la risonanza, cioè il numero di appartenenza che voi avete scelto, quello che risuona nel vostro cuore e quindi a qualche livello è come che avete voi scelto la lettura giusta per voi, ok? Iniziamo con il gruppo A, pazienza, è venuto il momento di avere pazienza, di lasciare andare le paure, di lasciare andare il controllo, di lasciare andare questo bisogno di voler manifestare a tutti i costi in base ai tuoi tempi e quei tempi divini sono diversi dai tempi umani, è venuto il momento di lasciare andare, di rilassarti, di credere che tutto è possibile, che sta arrivando quello che hai chiesto, lascia, metti tutto nelle mani di Dio, così si usa dire, metti tutto nelle mani dell'universo, credi in quello che stai facendo, abbi fiducia nelle tue capacità, nei tuoi talenti e nella tua capacità appunto di indirizzare l'energia in un preciso obiettivo, va bene? Rimani focalizzato, rimani focalizzata, è venuto il momento anche di visualizzare il successo, lascia andare la paura di non farcela, non ti serve, non ti appartiene, tu hai sempre realizzato i tuoi sogni, dice l'Arcangelo Michele, sei sempre riuscito, sei sempre riuscita ad ottenere quello che volevi, ci vuole tempo, ci vuole energia, ci vuole positività, ci vuole visualizzazione, ci vuole gratitudine, inizia ad essere grato, ad essere grata per quello che hai già, hai un grande potere di spirituale, di manifestare la realtà che tu vuoi, tu puoi essere un creatore consapevole anziché inconsapevole, quindi cerca di manifestare quello che vuoi sentendoti degno, sentendoti degna di manifestare i tuoi desideri e metti tutto nelle mani di Dio, dell'amore dell'universo, affinché tutto si possa svolgere nella maniera più giusta, nella maniera più libera, nella maniera più equilibrata, ok? Passiamo al gruppo B, ok? C'è un'energia d'amore intorno a te, sei pronto, sei pronta per attrarre la persona giusta per te, la persona che hai tanto desiderato, la persona che hai tanto richiesto all'amore divino, all'universo, ai tuoi angeli. L'amore porta altro amore, stai lavorando sull'amore per te stesso, per te stessa continua a farlo perché ci sono delle energie molto positive intorno a te che ti stanno veramente, gli angeli dell'amore si stanno muovendo in questo senso per aiutarti a manifestare una relazione romantica. Alcuni di voi hanno già conosciuto questa persona, è la persona che fa per te, quindi stai tranquillo, stai tranquilla, goditi i momenti di gioia, di armonia e di pace. Scrivi i tuoi sentimenti, ok? Descrivi, descrivi esattamente come ti vuoi sentire, quello che vuoi manifestare, come deve essere questa persona, come vuoi vivere queste, emozionalmente parlando, come vuoi vivere questa relazione romantica, va bene? Perché è importante che poi quando arriva tu lo sai riconoscere, la sai riconoscere, devi avere le idee chiare, non aspettare che arrivi a caso, il caso, sono poi arriva appunto il caos. Se invece tu hai chiare le idee di come vuoi vivere una relazione, ecco che tutto si armonizza e si sintonizza nella direzione giusta e arriva esattamente quello che tu stai cercando. Ricordati che se hai già incontrato questa persona, sei al sicuro, sei protetto, sei protetta, questa è una persona di fiducia, una persona amorevole e gentile e tutto si sta allineando in tuo favore, perché le energie sono proprio giuste, assolutamente, veramente l'amore sta tornando nella tua vita, ok? Tu ricordati che tu sei amorevole e amabile e meriti di essere amata, meriti di essere amato, ok? Bene, passiamo al gruppo numero 3 e diciamo che la vita è fatta di cicli, ok? Hai attraversato un momento molto duro, molto difficile, molto importante nella tua vita, che ti ha veramente provato, ti ha anche un po' stremato, nel senso sono state delle prove molto dure, molto intense, molto difficili, che però hanno tolto da dentro di te, hanno fatto emergere questo potere, questa forza, questo grande coraggio e determinazione, è un ciclo che si è chiuso, ora sta iniziando un nuovo ciclo, quindi la situazione è già risolta, non preoccuparti, il passato resta nel passato, lascialo andare, affidati perché stanno arrivando cose meravigliose nella tua vita, rimani radicato, rimani radicata e saldo, salda, perché veramente ora il passato lo devi lasciare andare, non accadrà più niente di negativo nella tua vita, ok? Diciamo che è venuto anche il momento di perdonare gli eventi passati, le persone che si sono comportate male con te, le persone che hanno abusato del loro potere, le persone che hanno anche in qualche modo giudicato le tue azioni, il tuo essere, ti hanno considerato anche nel modo sbagliato, lascia andare, il passato è nel passato, rimani saldo, rimani radicato e vedrai radicata e vedrai che stanno arrivando un nuovo ciclo, una nuova energia sta arrivando, perché voglio dire un'energia dell'estate, l'energia è molto intensa, cerca di sintonizzarti nelle frequenze più alte della gioia, dell'abbondanza, dell'amore, della felicità, ok? Cerca di ricollegarti al gruppo A e al gruppo B, cioè esci da questo ciclo di negatività per riconnetterti con le frequenze più elevate in assoluto, va bene? Ok, cerchiamo parlando di futuro, ho già fatto un video sul futuro, guardatelo perché spiego il discorso del futuro, dell'importanza di comprendere che il futuro insomma possono arrivare dei messaggi futuristici, ma siamo noi che creiamo la nostra realtà, guardatelo è breve, ma è molto interessante, anche per uscire un po' dal mito di poter predire esattamente un futuro certo, non sempre così, ok? Bene, vediamo un attimino, chiediamo all'arcangelo Michele qual è il messaggio più giusto per noi per questo momento, per il nostro massimo bene e il massimo bene supremo, ok? Prova ad esplorare il reale anche con gli occhi del fantastico, che bello questo messaggio, bellissimo, aspettate se riuscite a leggerlo, mannaggia, riuscite a leggerlo? Ok, vediamo un po', solo quando realtà e fantasia camminano a bracetto come due vecchi amanti è possibile comprendere il capriccioso spumeggiare vorticoso delle onde del futuro, parlando di futuro, inutile privilegiare l'una o l'altra perché è la loro unione che conta. Ebbene, con questo messaggio io vi lascio, vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta, in più insegno alle persone a connettersi con gli angeli attraverso le carte, la scrittura ispirata, la connessione diretta, facendo dei corsi online su Zoom di gruppi di 10-15 persone e mi occupo anche di insegnare alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce che sono delle frequenze armoniche che aiutano a portare armonia ed equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, laddove tu hai bisogno e puoi imparare questo lavoro straordinario per te stesso, per aiutare i tuoi cari, guarire te stesso, guarire gli altri e eventualmente anche per ampliare il tuo curriculum se già sei un operatore, un'operatrice olistica. Bene, io vi saluto, vi auguro una settimana da favola e a presto. Ciao ciao!